Rispondiamo adesso in questo vblog a tutte le fans di Alessio Corvino e Lavinia Mauro Infatti spesso ci chiedete come vadano le cose fra di loro e vi rispondiamo quindi con questo video della coppia che ora vi mostreremo e che sicuramente vi tranquillizzerà Ma sinceramente insomma parlando di loro non è che ci siano molte cose da dire, in quanto sono innamoratissimi e sinceramente da quando si sono messi insieme Io un giorno che siano stati lontani l'uno dall'altro ancora la devo vedere E quindi proprio per questo erano insieme anche per Ferragosto e precisamente a Salerno E come potete vedere lui vi augura anche il buon Ferragosto, per il resto il video parla tutto da solo, non credete? Grazie 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 Grazie